Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 30 luglio. Ancora sui giornali c'è la questione del carabiniere ucciso da due giovani studenti americani, almeno da un giovane studente americano con 11 colpellate. Ieri ci sono stati i funerali nel suo paese di origine, c'è stata una straordinaria lettura della moglie del carabiniere che è stata davvero commovente. Oggi alcuni giornali l'hanno pubblicata, il giornale, il messaggero, non solo loro ovviamente, in molti hanno pubblicato la lettera che è davvero piena di parole incredibilmente di buonsenso della moglie di questo carabiniere, però la polemica continua anche se sottotono ad infuriare. Perché continua ad infuriare la polemica? Perché nei giorni scorsi è inutile che ci prendiamo in giro due o tre giornali, la stampa, la repubblica, per citerne direi quelli del gruppo G, ma non solo, hanno parlato soltanto della questione della benda sugli occhi di uno dei due interrogati. Siccome ci sono santi cretinetti che guardano questa zuppa, non si mettono le bende agli interrogati, però oggi Nordio sul messaggero dice una cosa sacrosanta. Il messaggero ho preso, non ho preso il giornale dove lavoro, non ho preso il, come possiamo dire, la verità, non ho preso Libero. Cosa dice Carlo Nordio a quei cazzoni che guardano alla questione della benda e non alla questione delle undici coltellate? E più o meno li definisce così, cazzoni, anche se Nordio è un vecchio magistrato in pensione e non si esprime male come mi esprimo io. Dice ragazzi state guardando il dito e non ho la luna, punto primo. Punto secondo, è sbagliato, ma il magistrato Nordio dice sapete che cosa avviene quando ammazzano un poliziotto negli altri paesi? Ma di che cosa stiamo parlando? Dice è sbagliato, ma è inutile che ci indigniamo troppo. Gian Michele Sino oggi ce lo ricorda cosa succede negli Stati Uniti quando si tocca un carabiniere e soprattutto ci ricorda le violenze dei poliziotti nei confronti di persone di centinaia di cucchi americani che in genere hanno la pelle nera. Quindi poco immoralisti nei nostri confronti, dice Michele Sino oggi sul giornale. Ma Nordio va avanti perché fa un pezzo straordinario, perché siamo nel paese dell'Antigone, per cui tutti quanti diventano Antigone. E poi rassicura l'avvocato Dorovitz che ieri ha fatto un'intervista in uno di questi soliti giornali, stai tranquillo, magari se viene a vedere un po' come funziona la giustizia italiana, la vostra americana sarà straordinaria, ma ti assicuro che il fatto che abbiano messo una benda, e questo è il dato fondamentale a uno degli accusati, a uno degli indagati, non toglie che ci sia stato un omicidio. E soprattutto non ha nulla a che vedere con quell'omicidio, perché sono due cose separate. Uno è un sottotenente, scusatemi, è un sotto ufficiale che avrebbe messo la benda, per motivi che poi bisognerà appurare, perché nei confronti di questo sotto ufficiale non c'è nessun garantismo. Cioè il garantismo nei confronti degli americani, ma non del sotto ufficiale. Magari c'è una sola ragione tutta particolare per aver messo la benda. Non lo so, ma se non sappiamo quali sono le ragioni particolari per uccidere un carabiniere, non sappiamo neanche le ragioni particolari per mettere una benda. Ma lasciate perdere adesso questa vicenda per un secondo e guardate la cattiva coscienza di due giornali, Repubblica e Corriere della Sera. Merlo viene spedito a fare il, come si chiama, il risoconto del funerale da non crederci, è da non crederci quello che scrive Merlo. Penosa sospensione di un minuto che ha fatto la RAI, per esempio, dice, per la morte di un carabiniere. La considera penosa, lui che la RAI qualche cosa un po' la conosce, come si chiama Camposanto dell'Orto, come dice D'Agospia, o come dico io, il conte Mascetti, cioè il cazzaro che si è riempito di Verdelli, che fa il suo direttore di Merlo, cioè di consulenti che non hanno fatto nulla se non forse prendono lo stipendio. Non parlo di Verdelli, parlo di Merlo. Cioè quel giro di persone là, se la prende contro la RAI perché ha fatto un minuto di silenzio. Nord, al contrario, considera questa una cosa di grande dignità per una televisione pubblica nazionale, se muore un carabiniere. Ma la cosa incredibile è una lezione agli sciacalli, sarebbe questo funerale in bianco contro, dice, il nero che c'è ovunque. Cioè Salvini, noi, tutti quelli che invece pensano che in un paese normale se si ammazza un carabiniere con undici coltellate e non si dà la dodicesima, come dice ieri, perfettamente al funerale del generale Nistri, cercando di andare a vedere che cosa sta succedendo sulla vicenda della benda. Feltri, fantastico, oggi sul Libero, dice che ci sono molte domande che bisognerebbe porsi e fare delle domande giuste, vorrei dire oggi Vittorio Feltri, sul suo giornale. La prima domanda giusta è, insomma, ma perché questo ragazzo è venuto dagli Stati Uniti, dove gli amici tolgono anche la bottiglietta d'acqua con un coltello di 18 centimetri? Sì, perché intanto questo dà il senso di quello che tu ti porti un pugnale da Marine dall'America, che sei venuto a fare qua, a giocare? E già questo dà il senso di chi era questo personaggio e anche della sicurezza di cui i nostri rapporti non si possono forse vantare neanche quegli americani. Ma non è soltanto la questione del pugnale, l'altra grande questione fondamentale è perché non hanno sparato, perché non c'era una pattura di supporto a questa operazione di polizia. Molto bello oggi, secondo me, l'accostamento che fa Sallusti, molto polemico, molto bello, perché ieri è successa una cosa che Fazzo racconta, io mi fido molto di Fazzo, che è il cronista giudiziario del giornale Ex Repubblica, e dice che questo nigeriano è stato beccato insieme ad altri ingegneri a picchiare una donna, è arrivata all'ospedale tutta sfregiata, inoltre una volta che l'hanno pizzicato lo hanno beccato con 40 grammi di hashish, insomma 40 grammi non sono proprio un uso personale. Inoltre ha risposto picchiando i poliziotti che lo volevano arrestare, è stato processato per direttissima, una volta che è stato processato per direttissima è stato condannato a un anno, con la condizionale, perché incensurato, ma soprattutto con un attenuante, sapete qual è l'attenuante? Che siccome era un richiedente asilo questo nigeriano, la sua condizione di richiedente asilo era un attenuante rispetto ad aver picchiato una donna, spacciato a hashish, che per il momento non si può fare in Italia, è picchiato i carabinieri. Allora voi capite che in un paese in cui la domanda di feltri è perché questi non hanno sparato, è perché un poliziotto che si permette di sperare, per carità, bendare un americano, va in galera e coloro che sono stati bendati, o coloro che hanno sfregiato una donna, spacciato a hashish, eccetera, se gli va bene si fanno un anno non di carcere, di pena, con la condizionale per poi poter continuare a delinquere. Sono poco garantista? No, non sono garantista, penso che ci sia un elemento di discrezionalità dei giudici talvolta folle, chiaro? Folle, è stato condannato un anno. Bene, possiamo discutere il fatto che sia stato più o meno condannato un anno? No. Comunque favolosa, favolosa come sempre la polemica del Daily Mail con il cretinismo globale, di una delle più grandi rappresentanti del cretinismo globale, ce la siamo risparmiata grazie al cielo, e questa Meghan, detta Mimi Meghan, perché pare che lei sia una specie di egocentrismo, attrice americana, di serie diciamo non proprio A, che gli inglesi si sono adottati come ovviamente principessa, visto che si è sposata il figlio di Carlo. La principessa, o la duchessa si dice, scusatemi, Meghan, in realtà oggi è trattata non soltanto dal Daily Mail, come per suo, che dice stai attenta che la vera royalty è diversa dalla fashion royalty, ma parente oggi ci dice, la sua favolosa esperienza in barca a vela, scusatemi, non in barca a vela, la sua esperienza, non in parente, la copertina di Vogue, oggi ce lo racconta il giornale, è stata fatta, è stata dedicata a una serie di personaggi scelti da lei, che per un giorno ha fatto la direttrice. Ovviamente tra i personaggi non può che esserci Greta e tanti altri combattenti LGBT, i diritti che potete immaginare, delle minoranze, orca, qui oggi la ripresa è un disastro, e mi scuso con tutti voi, e poi l'altra cosa favolosa di oggi è appunto parente, che prende in giro una delle fotografate da Meghan, cioè Greta, che andrà alle Nazioni Unite in barca a vela, e vabbè per non inquinare, ma sapete di chi è la barca a vela? di Pier Casiraghi, e si chiama Malizia 2, come dice lui, sembra il nome di un profumo, dice parente, ma soprattutto vi rendete conto, Pier Casiraghi presta la barca a vela, oppure sarà in barca a vela con Greta per arrivare alle Nazioni Unite, cioè se uno dice che questa cosa la scrive in un romanzo, uno dice ma questo è un romanzo di cazzari, non è vero, il figlio del principe di Monaco, cioè stiamo parlando di Monaco, Casiraghi, Casiraghi, che presta la barca a Greta per l'inquinamento ambientale, ma io la trovo favolosa, il fatto oggi ancora sulla questione della TAV picchia duro, il ciuscio Berlusconi con Salvini per fare la Torino di Leone, mette in campo anche ovviamente Travaglio, il portavoce del Movimento 5 Stelle, che dice il partito di Repubblica che adesso si scopre pro TAV, e fa finta che i grillini debbano essere espulsi dal loro partito e uscire dal Parlamento perché hanno votato a favore della TAV, e un redivivo Cerno, ex direttore dell'Espresso e Renziano catapultato a fare il parlamentare del PD, che non mi risulta che negli ultimi anni abbia detto nulla di interessante, nonostante sia una persona intelligente, ma oggi spiega, faccio un, come possiamo dire, e dice tradisco la mia storia e tradisco non so che cosa i suoi sei mesi di espresso se non voto sia la mozione del Movimento 5 Stelle sulla TAV, ovviamente faccia come gli pare, la trovo veramente questa idea che la TAV, oltre ad essere inutile sia in automatico il partito degli affari, come l'altro giorno ci spiegavano anche i 15 miliardi del Cipe, è l'idea favolosa, bucolica di un'Italia che è meglio che non faccia nulla perché sennò rischiamo di far male. De Juvenal ve lo consiglio oggi raccontato da perfetti sul giornale, equivoco liberale nel senso che in una prima fase molto apprezzato da Hayek e ovviamente da tutti quanti i liberali della Montpellier e dei Society e poi con questo spirito antidemocratico e finamente tecnocratico alla fine della sua produzione letteraria, meno amato da Hayek per il suo razionalismo illuministico. se avete interesse verso queste cose d'estate, comunque De Juvenal raccontato da perfetti, è molto divertente. Litigano ancora Di Maio e Salvini, questa volta racconta il giornale, prima pagina, ma non solo il giornale, quel video rubato a una manifestazione calabrese in cui Di Maio parla di Salvini, devo sempre mettermi d'accordo con quello là e potete immaginare quale siano le reazioni. L'epri sulla stampa ci spiega che hanno evitato di fare l'inizio della finanziaria questa estate e tutto rimandato a settembre e domani, attenzione, dati dell'Istat sulla crescita della economia che l'epri anticipa non essere certamente buoni. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento domani, mi scuso per la luce veramente incredibile di questa trasmissione. Ciao!